uno dei modi con cui a volte è descritta la birra è il concetto di pane liquido avendo questa bevanda antica probabilmente quasi o come il pane appunto tanti punti in comune con questa pietanza nel momento che si tratta fondamentalmente di un prodotto a base di cereali che subisce una fermentazione quindi una trasformazione ad opera di determinati microrganismi che appunto modificano questo questo prodotto iniziale per ottenere un prodotto da proprietà diverse in certi casi anche più interessanti ebbene la birra di oggi è secondo me proprio il punto più vicino a questo a questo paragone del pane liquido o come dice la stessa etichetta di questa birra l'anello di congiunzione tra la birra e il pane perché la birra madre di M in Aresta è una birra quindi liquida appunto malto d'orzo il gris di questa birra ma la fermentazione avviene utilizzando il lievito madre o pasta madre pasta acida che dir si voglia utilizzato proprio in panificazione il birrificio appunto è M in Aresta ci troviamo a Carate Brianza provincia di Monza Brianza il nome di questa birra è birra madre lo stile qui mi sono trovato un po in difficoltà non è facile inserirla o incasellarla in uno degli stili tipici del bjcp come faccio di solito su questa scheda uno stile che potrebbe avvicinarsi sempre stanno alla codifica bjcp potrebbe essere quello delle wild speciality beer la categoria 28c che include tutta una serie di birre che non rientrano nelle altre categorie wild del bjcp della categoria 28 del bjcp quindi le brett e il per esempio o cose di questo tipo dal momento che appunto c'è una serie di contaminazioni selvagge poi vedremo di capire anche quali gli ibu non sono presenti nemmeno un range di ibu per queste categorie qui non è inserito ovviamente in etichetta il grado alcolico 4,8 gradi prezzo di questa bottiglia da 37,5 attenzione non 33 ma 37,5 come per il lambic ossia la mezza bottiglia da 75 prezzo appunto 7,80 bicchiere direi un bicchiere a chiudere io ho un tulipano un po più piccolo c'è chi preferisce bicchiere molto più grandi per avere un rapporto liquido area molto è maggiore o comunque con una grande quantità di aria che può entrare in contatto con il liquido per appunto areare meglio il liquido non saprei se questa tecnica davvero possa avere un significato particolare come in alcuni casi di vini potrebbe avere e per quanto riguarda la temperatura di servizio anche qui è un po difficile cercare di capire quale potrebbe essere io ho indicato in scheda 10 12 gradi anche 14 gradi come per i barley wine potrebbe andar bene infatti teniamo conto che quasi sempre in quasi tutti gli stili più si sale con la temperatura più si tende a aprire un po il ventaglio aromatico di questa birra come anticipavo una birra davvero unica il sito riporta la prima in italia in brassata e fermentata in questo modo appunto ci sono diverse similitudini tra il mondo dei lambic e delle fermentazioni spontanee con quello di questa birra ricordiamo per correttezza che lambic è un termine che possiamo utilizzare meglio che possono utilizzare solo determinati birrifici sono una decina o poco più e si trovano solo nell'area del paiottenland l'area descritta dalla valle del fiume sen che si trova più o meno nella zona centrale del belgio e appunto solo i birrifici che producono per fermentazione spontanea in quel luogo possono utilizzare il termine lambic qui c'è un interessante gioco di parole perché siccome si rifà a quelle birre ma me ne resta come ricorderete nella puntata in cui abbiamo parlato della storia del birrificio me ne resta il nome della fonte del fiume lambro e giocando appunto con il nome del fiume la birra viene chiamata appunto è scherzosamente lambric ma appunto il lambic o comunque le fermentazioni spontanee sono secondo me nell'ambito birra la cosa più vicina al lievito madre perché proprio come il lievito madre che abbiamo scoperto ovviamente tutti con le con i mesi di pandemia e lockdown anche le birra fermentazione spontanea praticamente non hanno un inoculo controllato di lievito quindi si prepara il mosto i cereali vengono lasciati in ammossamento nell'acqua poi viene fatta la bollitura di questo mosto viene aggiunto il lupolo eccetera eccetera e dopo questo mosto è zuccherino ricco di sostanze gli zuccheri derivati dall'amido dei cereali ma anche le proteine e altre sostanze e nutrienti viene lasciato all'aria aperta il contatto tra questo liquido e l'aria fa sì che i lieviti i batteri ma in generale i microrganismi presenti in quel momento in quella zona entrino a contatto col mosto e li possano iniziare a prolificare riprodursi e far partire una fermentazione a differenza delle fermentazioni controllate dove appunto se io voglio ottenere una belgian triple andrò a selezionare un ceppo di lievito belga particolare quindi non solo vado a scegliere proprio l'unica specie di lievito che voglio saccharomyces cerevisia ma andrò anche a scegliere all'interno di questa specie un ceppo particolare che mi produca esteri fenoli che mi che sia particolarmente attenuante e così via qui invece siamo proprio da tutta altra parte cioè quello che c'è in quel momento della fermentazione spontanea sarà poi il microrganismo responsabile di quella fermentazione motivo per cui una fermentazione spontanea così come un batch per così dire di lievito madre può essere molto diverso dal fatto che io lo faccia qui in casa dal fatto che lo vado a fare qui in collina in mezzo al vigneto dal fatto che lo faccia per esempio in estate o in inverno e così via questo rende appunto unica ogni singola cotta ogni singolo batch appunto di birra in questo caso ed è il motivo per cui poi per garantire un minimo di standard i lambicoli e le fermentazioni spontanee in generale vengono quindi blendate mescolate appunto per cercare di avere più o meno sempre delle stesse caratteristiche ma in questo caso appunto non si tratta propriamente di una fermentazione spontanea perché l'inoculo è controllato ma ciò che viene inoculato il mix di microrganismi che sono stati inoculati in questa birra non è stato selezionato a priori ma è appunto lievito madre o pasta acida che dir si voglia lievito madre appunto è interessante secondo me utilizzare comunque l'aggettivo acido perché è un mix di microrganismi che solitamente sono molto sproporzionati in favore dei batteri rispetto ai ai lieviti batteri che molto più spesso producono appunto fermentazioni acide acido lattiche lattobacilli pediococchi sono i più diffusi nelle fermentazioni spontanee o comunque nelle birre acide ma appunto questo pool di microrganismi che è dipende dalla zona ma che viene poi anche selezionato perché se voi avete presente come si fa il lievito madre sapete che ogni tot giorni o addirittura tot ore viene rinfrescato quindi viene aggiunto del nuovo nutriente di solito sotto forma di acqua e farina di cereali di frumento solidamente quello è anche un modo per selezionare determinati lieviti e soprattutto batteri perché banalmente microrganismi che possano anche finire nel mio panetto di lievito madre ma che non sono in grado di utilizzare gli amidi e gli zuccheri complessi della farina non verranno selezionati quindi non saranno in grado di sopravvivere così come i batteri particolarmente sensibili alle basse temperature se il lievito madre è conservato in un frigorifero tutti quelli che a 4 gradi del frigorifero o 4 6 o anche 2 gradi riescono ad andare in stand by ovviamente sopravviveranno e riprenderanno a riprodursi quando riporto il lievito madre a una temperatura più alta lieviti molto più sensibili che a 4 gradi muoiono ovviamente non verranno selezionati item per per i batteri fatto sta che con il lievito madre abbiamo selezionato quindi un pool di microrganismi che sono in grado di elaborare zuccheri e convertirli in tante cose diverse tra cui alcol e acidi questo lievito madre è inserito quindi nel nostro della birra la birra viene fatta fermentare in questo modo dopodiché segue un periodo di invecchiamento in botte proprio come si fa per i lambicchi e altre fermentazioni spontanee e qui riposa mi sono segnato 9 mesi ecco in barrique barrique di botti nuovi di quercia dopodiché imbottigliata una piccola nota il lievito madre viene preso da il panificio di davide longoni che appunto è un panificatore della zona vicino quindi a il beatificio me ne resta l'idea era proprio quella di fare una fermentazione con la microflora anche se sarebbe più corretto visto che si parla dei microrganismi con il microbiota che c'è esattamente in quella zona e quindi avere una caratterizzazione territoriale molto molto precisa e dopo questa lunga introduzione direi che possiamo aprire la bottiglia ma non prima mi sto per dimenticare anche questa volta di commentare un atto un attimo la parte estetica nella bottiglia doppia etichetta frontalmente c'è questo segno astratto di un artista che tra l'altro ora non mi sono segnato ma è riportato sul sul sito di minaresta che nonostante l'interfaccia sia un po old school è completo e ci sono schede di tutte le birre a differenza di birrifici molto più moderni modaioli che buttano fuori birre senza neanche degnarsi poi di fare una singola scheda o scrivere due informazioni in croce sulle birre che 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 producono ma appunto è molto completo il sito di di minaresta e ci sono anche informazioni sull'autore di questo e degli altri disegni appunto delle etichette frontalmente appunto c'è il nome della birra birra madre questo disegno scritto sour blend lambric lambric scritto in colore diverso proprio per evidenziare il gioco di parole vabbè scritto anche in inglese sul retro c'è la storia che vi stavo raccontando del lievito madre del panificatore appunto e l'amicizia tra davide questo panificatore che ho appena nominato e i ragazzi di menaresta ed è indicato appunto il il processo produttivo di questa birra esiste anche una versione con aggiunta di frutta che in questo momento non ho ma appunto questa è la versione base mentre la versione con l'aggiunta di frutta ovviamente si rifà anche in quel caso alle crico alle frambuà tipiche appunto sempre della zona del payotte il tappo ultima cosa da commentare a livello estetico è color dorato color ottone con il logo di menaresta appunto e direi che possiamo aprire finalmente un profumo davvero molto intenso che arriva già a questa distanza partiamo come al solito però con l'analisi visiva di questa birra una schiuma non particolarmente abbondante ma molto fine a regolare di colore bianco la birra è perfettamente limpida di un di un color giallo non particolarmente acceso leggermente appunto pallida ma limpidissima e infine appunto la schiuma si conferma appunto non solo non particolarmente abbondante ma non anche particolarmente persistente questa che è una caratteristica tipica di birra sia particolarmente attenuate e invecchiate è appunto tipica delle fermentazioni spontanee e dei lambic passiamo quindi al naso un naso davvero davvero molto complesso uno di quei nasi dove si fa fatica decidere dove iniziare a descrivere le tantissime cose che ci sono la prima cosa che questa birra mi ha ricordato la prima volta che l'assaggiai è proprio quello il naso da lambic un naso da da gus per essere più precisi nel senso che c'è una parte sicuramente wild fa anche come scrivono gli americani e mi piace molto l'aggettivo fa anche perché già fa capire esattamente che cosa stiamo usando ma se vogliamo essere un po più precisi di questo generico fa anche c'è una parte di cantina di muffa una parte di legno molto importante c'è una parte di fieno secondo me anche e tutta la parte legata al mondo delle fermentazioni acide e in questo caso direi acido lattiche non è così forte il lattato la parte di di acido lattico appunto la parte più uguale di appunto cantina legno muffa è superiore ma comunque se dovesse scommettere direi che più che un acidità di tipo acetica sicuramente un acidità di tipo lattica c'è anche una componente fruttata e vinosa proprio il naso secondo me ricorda alcuni alcuni vini bianchi ma direi adesso di passare al palato la conduzione in bocca è davvero molto interessante si parte con un inizio di sorso piuttosto morbido e maltato con un corpo molto leggero sostenuto però da una carbonazione comunque vivace e che vira nella seconda metà del sorso verso appunto zone decisamente più acide con un taglio finale molto molto pulito ma molto comunque importante appunto di di acido che continua anche un pochino dopo il sorso un amaro decisamente molto molto contenuto la fine del sorso anziché il classico passaggio sull'amaro che si trova in molte altre birre qua invece va decisamente sull'acido che comunque è ottimo per ripulire la bevuta non che ci sia una dolcezza particolarmente spinta assolutamente no anzi il corpo è piuttosto comunque leggero e molto molto tenuata questa birra ma appunto questo finale acido comunque importante è una bella chiusura e da appunto questo tocco vinoso e anche un po' minerale secondo me al alla parte finale del sorso retrogusto retrolfatto ritornano ancora queste sensazioni direi di cantina che appunto ricordano i lambicchi in generale le fermentazioni spontanee che ho nominato fino a questo momento e ancora persiste un leggero ma comunque importante e abbastanza lungo fruttato che continua a lavorare comunque un pochino in bocca è una birra sicuramente molto facile da bere ovviamente molto facile se avete già confidenza con la parte più acida del mondo delle birre ma sicuramente anche la persona secondo me che non conosce il mondo delle birre acide può trovare dei grandi punti in comune con un vino per esempio motivo per cui secondo me rende questa birra anche una birra da aperitivo ottima ma appunto è un esperimento secondo me molto interessante oltre che innovativo davvero non convenzionale di produrre e di condurre una fermentazione e quindi con l'ottima birra mad di birrificio menaresta scol a